Caro Presidente, mi chiamo Mohamadou e sono qua al Cara di Bari. Ho visto il suo appello su Facebook e con i miei fratelli. Siamo gratis a voi pugliesi per il vostro aiuto e oggi vogliamo ricambiare donando il nostro sangue per i nostri fratelli. Domani tutti a donare! Uniti siamo più forti!